L'Airedale Terrier, il luogo di nascita della razza, è la valle del fiume Aire nello Iorcire, Inghilterra. La storia della razza. Airedale Terrier è il nome di una valle nel West Reading of Iorcire tra i fiumi Aire e Warf, ed è il luogo di nascita della razza Airedale Terrier. A metà del XIX secolo, i lavoratori allevavano questo cane incrociando un Terrier nero e marrone a pelo duro Old English, e un Terrier rosso, ora noto come Vesh Terrier, con un Oteround. Nel 1886 l'Airedale Terrier fu ufficialmente registrato presso il National Dog Club. Nel 1864 fu presentato per la prima volta a una mostra canina dall'Airedale Terrier Breding Society. I cani sono stati conosciuti con vari nomi come Vire Aired, Bingley, Coastal Terrier. Nel 1879, gli allevatori di cani decisero di chiamare la razza Airedale Terrier, questo nome fu approvato dall'English Club of Dog Funchers nel 1886. I ricchi cacciatori di questo periodo sono solitamente raffigurati accompagnati da un branco di Segugi e diversi Terrier che corrono insieme. I Segugi devono annusare la preda e inseguirla, e i Terrier devono determinare il buco, o altro rifugio, proteggersi intorno o entrare e uccidere la vittima. I Terrier venivano spesso scelti come cani da caccia dalla gente comune. I primi Terrier da caccia, dovevano essere abbastanza grandi per combattere con il nemico, ma non tanto da impedire loro di farsi strada sottoterra nel complesso sistema di mosse dell'animale. Di conseguenza, i Terrier hanno dovuto avere un coraggio, e un coraggio incredibili, hanno strappato il muso della vittima, stringendolo in un angolo di una tana buia, senza l'aiuto di un cacciatore. Per tutto il XIX secolo, nella Aire Valley si tenevano regolari eventi sportivi, durante i quali i Terrier cacciavano grandi topi d'acqua. La capacità del Terrier di trovare un buco vivente sulla sponda del fiume, è stata testata e poi, dopo che il topo è stato cacciato dal buco dal furetto, il Terrier ha dovuto inseguire la vittima fino a ucciderlo. Questi eventi sono diventati sempre più popolari, i requisiti per i Terrier sono aumentati. L'Airedale Terrier era troppo grande per cacciare sottoterra nelle tane, ma era bravo in tutto il resto, ed era particolarmente agile nel cacciare nell'acqua. Grazie alla mescolanza del sangue dei Segugi, è dotato di un acuto senso dell'olfatto, e le sue dimensioni gli consentono di cacciare selvaggina ancora più grande. Questo Terrier raccoglie magistralmente la scia e non la perde nemmeno dopo uno sparo, quando l'odore della selvaggina è interrotto da un forte odore di polvere da sparo. Le dimensioni e il temperamento dell'Airedale Terrier lo rendono un buon protettore per la fattoria o la casa. L'Airedale Terrier era usato anche dai bracconieri, per lo più persone comuni che non avevano i mezzi per unirsi a un club e cacciare legalmente. Coniglio, lepre o uccello sono stati trovati quasi ovunque, e Airedale Terrier è stato addestrato a dare la caccia alla vittima, ucciderla e portarla al proprietario. L'Airedale Terrier fu esportato per la prima volta in Nord America nel 1880. Il primo Airedale Terrier a mettere piede sulla terraferma americana si chiamava Bruce. Poco dopo il suo arrivo, ha vinto il primo posto nella classe Terrier al New York Dog Show. Nel 1910, l'Airedale Terrier Club of America propose che l'Airedale Terrier Cup fosse un premio regolare, che è ancora contestato oggi. L'Airedale Terrier è stato ampiamente utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale per inviare messaggi ai soldati dietro le linee del fronte, e per inoltrare la posta. Hanno prestato servizio nella Croce Rossa, trovando i feriti sul campo di battaglia. Ci sono molte storie di Airedale Terrier che consegnano messaggi nonostante siano stati feriti a morte. Un terrier airedale di nome già correva per mezzo miglio sotto il fuoco nemico diretto con un messaggio legato al colletto. È arrivato al quartier generale con una mascella rotta, una gamba era completamente schiacciata, subito dopo la consegna del messaggio, è caduto morto ai piedi del segnalatore. Il tenente colonnello Ebino Tenville Ricarson era responsabile del servizio cinofilo nell'esercito britannico. Ha organizzato una scuola di addestramento per cani militari a Shoeburines, nell'Essex. Nel 1916 consegnarono due Airedale Terrier di nome Wolf e Prince. Questi cani si sono mostrati in modo eccellente, portando messaggi attraverso il territorio occupato dal nemico, quindi le loro funzioni sono state ampliate. Hanno cercato soldati feriti e li hanno aiutati a raggiungere l'ospedale o hanno portato aiuto. Nel 1906, Ricarson tentò di interessare la polizia britannica all'impiego di cani come ufficiali di scorta per proteggere la pattuglia di notte. Il signor Jeddes, responsabile della proprietà presso l'Uldot nello Yorkshire, aveva osservato i cani a lavoro in Belgio, ed era diventato un forte sostenitore di questa innovazione. Convinse il sovrintendente i dubbi della polizia ferroviaria del distretto nord-orientale ad accettare un piano per sorvegliare i moli con i cani. È stato l'Airedale Terrier, che è stato scelto per il servizio di polizia per il suo ingegno, e il suo buon istinto. Inoltre, il loro pelo corto e ruvido è facile e semplice da curare. All'inizio della guerra russo-giaponese nel 1904, l'ambasciata russa a Londra si avvicinò al tenente colonnello Ricarson per acquistare cani per l'esercito russo, ha anche chiesto aiuto per addestrare questi animali a trovare e trasportare i feriti sul campo di battaglia. Mandò Terrier, per lo più Airedale Terrier, per comunicazioni e servizi medici. Successivamente, i Terrier Airedale misero radici indussia, e nel 1920 furono usati dall'Armata Rossa. Servizi speciali per cani, furono creati nel 1923, Airedale Terrier serviva come cani esplosivi, cani da scorta, cani da ricerca della polizia e cani da salvataggio. Due Airedale Terrier sono stati tra i cani, che sono caduti con il Titanic. Airedale Terrier Kitty era di proprietà del colonnello John Jacob Astor IV, un aristocratico e milionario americano. Il proprietario del secondo Airedale Terrier era William E. Carter di Brinar, Pennsylvania. Il signor Carter era il proprietario dell'auto Renault in cui i giacche rose si incontrarono nel film Titanic. Carter, sua moglie e due figli sono sopravvissuti al naufragio. Il capitano Walter Lingo di Larue, Ohio, allevò l'Orang Airedale Terrier. Il nome nel titolo è tratto da un'illustre stirpe di campioni che si sono esibiti a lungo. Il migliore di loro era il re Orang XI, un cane leggendario con abilità insuperabili. King potrebbe consegnare uccelli acquatici, un procione, portare bestiame, incluso un regge di pecore, inseguire un puma, un orso, un lupo. Ha combattuto uno dei migliori Bull Terrier da combattimento, e lo ha ucciso. Fu addestrato a lavorare per la Croce Rossa, prestò servizio nel corpo di spedizione americano al fronte in Francia. Il motivo che ha spinto Lingo a iniziare a lavorare su una nuova razza è stata l'insoddissazione per le prestazioni medie dell'airedale Terrier. Dopo una serie di incroci, ha sviluppato il miglior Terrier airedale sulla Terra, chiamato King Orang, che la rivista FES ha definito il più grande cane da lavoro nella storia del mondo. L'allevamento degli Orang continuò fino alla morte di Walter Lingo nel 1969. Per aiutare a promuovere King Orang e altri cani, Lingo ha creato la squadra di football degli Orang e Indian guidata da Jim Torpe. La sua squadra ha giocato nella National Football League dal 1922 al 1923. Jerry Seabert, un allevatore di airedale Terrier a Bukei e Lache, Ohio, seguì le orme di Lingo e sviluppò il Gerald Terrier. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la popolarità dell'airedale Terrier aumentò notevolmente a causa delle storie del loro insuperabile coraggio al fronte, e perché i presidenti Theodore Roosevelt, Vaudreau Wilson, Warren Harding e Calvin Coligie mantennero l'airedale Terrier. Il cane del presidente Harding si chiamava Lady Eboi. Nella memoria di Harding, i paperboys hanno raccolto 19.134 pezzi di rame da un centesimo da cui è stata fusa una statua di Lady Boy. Il 1949 vide l'apice della popolarità dell'airedale Terrier negli Stati Uniti, la razza raggiunse la ventesima razza su 110 nell'elenco dell'American Kennel Club. Quindi la razza era al 50 gradi posto su 146. L'airedale Terrier, grazie al suo comportamento amichevole ed energia, divenne una delle razze che, insieme allo Schnauzer gigante e allo Tvailer, fu utilizzata per allevare il Black Terrier. Aspetto esteriore La testa è ben bilanciata, non vi è alcuna differenza visibile tra la lunghezza del cranio e la faccia. Senza rughe e pieghe. Il cranio è lungo e piatto, con un leggero restringimento tra gli occhi. Le orecchie sono distanti. Il passaggio dalla fronte al muso è debolmente espresso. Il collo è liscio, forte, di lunghezza e spessore moderati, gradualmente crescenti verso le spalle, senza giogaia. La linea superiore è corta, forte e livellata, senza cedimenti. Il lombo è muscoloso. Il torace è profondo fino ai gomiti, ma non largo. Le costole sono abbastanza convesse. Nei cani bassi con un buon petto, la distanza tra le costole e la coscia è piccola. Se il cane è lungo al lombo, la linea superiore mostrerà debolezza. Il torace è profondo, cioè vicino al livello delle spalle, ma non largo. Le costole sono abbastanza convesse. La coda è attaccata alta, non si arriccia all'indietro, forte. Acquistato a piacimento. La punta della coda ancorata è approssimativamente all'altezza del cranio. I piedi sono piccoli, rotondi e compatti, con una buona profondità del piede, e le dita sono moderatamente arcuate. Il pelo è ruvido, fitto, folto e diritto, che copre il corpo e le gambe. La parte esterna è forte, densa e rigida, quella interna è più corta e morbida. Un po' ondulato, il pelo riccio e morbido è altamente indesiderabile. Il corpo, la coda e la parte superiore del collo sono neri o grigi. Tutte le altre parti sono giallo-marroni. Le orecchie sono spesso marrone scuro. Un po' di pelo bianco tra le zampe anteriori è accettabile. L'altezza algarrese dei maschi è di circa 58 al 61 centimetri, le femmine 56 al 59 centimetri. Temperamento. Emotivo. L'umore è intuito dall'espressione degli occhi, dalla posizione delle orecchie e della coda. Estroverso e sicuro di sé, amichevole, coraggioso e intelligente, a volte può essere testardo. Sempre vigile, non aggressivo, ma senza paura.